Yo, benvenuti in questo nuovo episodio, ho capito, di One Stock to Diamond. Siamo al sesto ora, siamo contro Vodvar e su Miami Dome. Lo scorso match è stato un po' strano, molto strano. Se avete visto il quinto capitolo sapete di cosa parla. Io in realtà l'ho fatto tipo 10 secondi fa. Però sì, è stato molto strano. Vediamo adesso se riusciamo a ritornare a una parvenza di normale con questo Vodvar. In realtà non vorrei che tornassi a una parvenza di normale perché l'ultima volta mi ha regalato un sacco di log artis. Ah, gratis! Ma questo qua è gold? Questo qua è veramente gold? Gioca in modo strano. Come gioca? Che sta facendo? Cos'era quel side light? Non ero lontanamente lì. Allora? Beh? Non ho idea... Ragazzi, non ho idea di cosa stia facendo. In cinque anni di Brodalla non ho idea di cosa lui stia facendo. Sto adottando contro i fantasmi. Davvero non sto capendo. Oh, finalmente mi ha tirato un Seir che era più o meno vicino a me. Ok. Stiamo ingranando, stiamo ingranando. Poco alla volta. I dodge che fa sono buoni comunque. I dodge che fa sono decenti. Guarda, ma raga, questo è un attore pagato per farmi vincere, letteralmente. È letteralmente un attore pagato per farmi vincere. Guarda. No! Ok. Mi pare che non mi faccio toccare, perché sennò... Finisce male, poi. Facessi così? Ah! Meglio che non ci provo. Sto per essere ritrati in modo brutto. Ok. Sto. Perfetto. Ma sarei anche tentato di giocare l'arco qua. Però... Rocketlands è così... È così una sicurezza. In questo momento. Che non voglio veramente rischiare contro sto Bodvar che non fa niente. Perché... Questo Bodvar, secondo me... Prima o poi si sveglia. Ho questa sensazione. Questa... Oh, aiuto. Mira questa sensazione. Ah. Ok. È andato in basso. Ah, vabbè. Ho esagerato un pochino, forse. Sì, ho esagerato un pochino. Però vabbè. Do it. Non... Non sono... Una tragedia. Oddio! Quella roba di mi sta a vettare. Ok. Però, hai visto? Però già sul bordo non ci va, eh? Già sul bordo non ci va. Non salta nemmeno quando devo fare 6. Alcune cose intelligenti le fa. Però poi fa queste cose. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Per essere a 1700 è un po' strano sto Bodvar rispetto agli altri giocatori che ho affrontato prima. Allora? Ok. Questa volta mi ha saltato. Questa volta ha saltato. Perciò che prima ero un misclick. Oh. Ok, ok. Vuole aprire il grand palmat. L'intenzione c'era. L'intenzione c'era. Ancora mi ha saltato dopo il seer. Adesso proverò a prenderlo in salto se riesco. Aspetta. Ok. 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 Gli abbiamo preso 3 salti. Va a montare di volte che saltava praticamente. Qui mi ha regalato un air. Ok. Dai. Dai Bodvar. Dai Bodvar. Sono 4 minuti in. Dai. Dai. Non puoi più passare. Basta. Il mio highlight è troppo forte. Non puoi più passare. No, non è vero. C'è la piattaforma sopra. Mannaggia Maimedon. Ok. Oh. Ha fatto tutto da solo. Perfetto. 4 minuti e mezzo. Partita abbastanza pulita. Tranquilla. E saliamo a 1810. E passiamo al prossimo game. Ok. Siamo contro un diamante. Le cose si fanno un pochino più impegnative. Mi sa. Pochino. Poco, poco. Vediamo un po'. Mmm. Potrebbe anche essere che è scarsissimo. Quindi. Non si sa. Ci ho piangere due volte. Il classico. Andiamo giù. Giù, 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 giù. Dove sta quella spear? Mi lascia pure l'arma. Rispettoso. Mi piace, mi piace. Io ho l'arco. Non volevo avere l'arco, ma. Ma vabbè. Ok. Non doggia. Non doggia. Quella roba lì era tutta doggiabile. Va bene. Noi lo accettiamo. Ci pigliamo un po' di... Un po' di it gratis con l'arco. Ah, addio. Quella sig. Parte decisamente troppo in fretta. Andiamo un po'. Non salta nemmeno? Non doggia e non salta? Ok. Quindi possiamo far così se non saldi. Perfetto. Abbiamo trovato la soluzione, ragazzi. Quando uno non salta, dash side sig. Tanto lui non salta e lo esabiglia. Ok. Mi ha ridato... Oddio. Devo stare un pochino attento. Il mio side light non ha così tanto range. C'ha più range da sua spear. In un sacco di situazioni. Tipo quel serli. Perché non mi fa recovery? Mi punisci? Vado, fammi recovery. No, non è... Non è riuscito a punire neanche la sig. Aiuto. Ok. Ok. Pim. Perfetto. Mamma mia. Questo grand pound a platino è una benedizione. È letteralmente una benedizione. Faccio il stock gratis questo grand pound. Non moschia nessuno. Togliamogli l'arma, va così almeno. Abbiamo un po' possibilità di pigliarlo. Ok. Non aveva doggiato, ma io avrei dovuto fare dash per pigliarlo con... Per estendere il side. Vai tra. Delight. Adesso... Veitiamo. Ok. Lui non salta mai, quindi si piglierà tipo una marea di delight. Vabbè, ha saltato su Google. Ah! Sono morto? No, ok. Ora sì. Non ci credo. Oddio! Ha missato! Siamo ancora in gara, siamo ancora in gara! No! Mi ha fatto recovery! Fai una pillata, fai una pillata a caso, ti prego. Mi fai la sig, frate. Lo so che mi fai la sig. Lo so che mi fai la sig. Non so se riesco a contestartela. Non so se riesco a contestartela. Che cazzo dire? Non so se la contesto. Ok. Che culo l'ho preso prima. Non ero sicuro di riuscire a contestare quella sig per il seg. Però vabbè. Ce l'abbiamo fatta. Più 20. E passiamo al terzo game. Sempre Vector. Abbiamo. Muin con l'autar del gold. Davvero una benedizione Vector. Allora, rimpiango i momenti in cui ho detto che Vector faceva schifo quando facevo Vector 2 Diamond. Perché non è vero. Perché non è assolutamente vero. No, vabbè. In realtà un pochino è vero. Però in questi momenti è i momenti in cui Vector da fo... Cioè, risplende, capito? Risplende. Risplende come dovrebbe risplendere. Sono proprio questi i momenti. I momenti in cui i muni in verdi non dodgiano. Ah! Dio. Ok. Abbiamo un po' che fa. Abbiamo tolto l'arma. Come da manuale. Letteramente come da manuale. Ok. Mi dodgia di nuovo in basso. Nessuno va in alto la rocket test. Cosa avete fatto questi qua? Perché hanno smesso di andare in alto. Cosa gli avete fatto? Nessuno va in alto. Quello dopo sai da dette cose. Incredibile. C'hanno tutti paura di andare in alto. Cazzo, mi sono fatto dettare troppe volte comunque. Devo concentrarmi un attimo. Smetti a dittarmi. Dai. Ok. Se vi steste chiedendo perché ho lanciato l'arma, è perché ho doggiato. Quindi non poteva schivare una specie di treno gigante che la rocket ne schierava incontro. Ok. Ancora mi ha doggiato in basso questa volta. Ah, prossimo Dorido. Tanto spot dodge o dodge in basso non cambia niente. Dovrei comunque poter fare... Sade del nero. Ah. No, mi ha doggiato in. Allora. Cambia dodge questo. Bisogna di sto stock. Oh, ho bisogno di una stock in fretta. Ok, perfetto. Grazie. Grazie, grazie. Ci teniamo la rocket. Vai giù. Bravo. Bravo. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Continua così. No! Non così però. Non farmi da sì che mi faccia. Ah! No, 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 raga, raga, raga. Questa qua è bruttissima. Questa qua è bruttissima. Ci perdo. Aspetta. Ci perdo. Ok. Ok. Adesso mi lancia una sigla a caso. Io lo so. Ah! Ok. No! No! Oddio! Oh mio Dio! Quella sig cos'era? Cos'era qualcosa di... No! Oddio, mi sono salvato. Daglie, daglie, daglie. No! No! Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, ho perso. Meno 17. E il video di oggi termina qua. Se il video vi è piaciuto, like, eccetera. E noi ci vediamo nel prossimo capitolo. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. E poi ci vediamo. Grazie.